La vita cosmica è lunga, infinita. I fratelli dello spazio, attraverso Wanda, a cura di Vubi. Con il passare dei cicli potreste avvicinarvi alla realtà con la vostra immaginazione. La vita cosmica è lunga, infinita, anche se è perfetta. Non esistendo il tempo, non si può dire quanto del vostro tempo deve trascorrere prima che riusciate a raggiungere la vera conoscenza della vita che regna nel cosmo. Avverrà sicuramente. Voi vi domanderete, ma quando? Quando sarà il momento? Ciascuna cosa deve compiersi senza fretta né condizionamenti. Avverrà al momento stabilito. Ogni cosa ha il suo posto, ogni movimento la sua rotazione e ogni sistema la sua appartenenza e si proietta verso l'evoluzione di un cammino prestabilito e perfetto.